Ieri, 24 giugno 2017, vi ho parlato del brutto incidente che avrebbe colpito il famoso pilota italiano Lorenzo Baldassari di San Severino durante le qualifiche del Gran Premio d'Olanda nella classe di Moto2. Tuttavia, il famoso pilota italiano del Team Forward Racing sarebbe stato disarcionato dalla moto e sarebbe stato catapultato in modo piuttosto violento a terra. Momenti di paura, di angoscia, di preoccupazione, ma da quello che viene riportato nel web e viene dato, scritto nello su bianco, della direzione di gara, Baldassari per fortuna sarebbe totalmente cosciente. Il pilota sarebbe stato immobilizzato e caricato nell'ambulanza, le qualifiche quindi sarebbero state sospese. I primi bollettini medici parlerebbero di un trauma cranico che il ragazzo avrebbe riportato. Il pilota comunque l'ha assicurato tutti attraverso i diversi social network in cui per l'appunto è iscritto e quindi ha fatto sapere che insomma non sta male, ma sarebbe bene. Comunque resterà in osservazione almeno fino a domani lunedì 26 giugno 2017. Grazie a tutti per l'ascolto, tieni duro caro Lorenzo Baldassari, ti siamo tutti vicini, io o me medesimo in primis anche perché sei un gran ragazzo in gamba e sono convinto che questa disavventura si trasformerà per te in una preziosa occasione per farti vedere e notare e al tempo stesso per avere meritati momenti di piacere. Bene, complimenti, questo video non vuole assolutamente l'edere, la prima si dirà Lorenzo Baldassari, ma solo informare eventuali persone. Grazie.